La terra è una oasi La terra è una oasi Il clima sarebbe così torrido che non potrebbe esistere nessuna forma di vita Se fosse solo dell'1% più lontana Diventerebbe in buona parte una distesa ghiacciata Anche le dimensioni della terra sono proprio quelle giuste Se fosse solo un po' più grande la gravità sarebbe più forte L'idrogeno o un gas leggero non potrebbe più sfuggire alla trazione gravitazionale E si accumulerebbe Col tempo l'atmosfera diventerebbe irrespirabile per gli esseri viventi Se invece la terra fosse un po' più piccola Non riuscirebbe a trattenere l'ossigeno e le acque superficiali Importanti per la vita Sia in un caso che nell'altro La vita non potrebbe esistere